Questa mattina invece la sessione sarà dedicata alle possibilità delle nuove tecnologie e dell'implementazione, quindi dell'integrazione tra online e offline. Ci saranno tre relatori e prima di presentarli io vorrei dare la parola innanzitutto alla professoressa Ravasini per i saluti istituzionali, è con molto piacere che stamattina porto questo saluto da parte dell'università come coordinatrice dei corsi di laurea in lettere e con molto piacere perché questa esperienza di Link che oramai è arrivata alla seconda edizione e noi speriamo che poi ce ne siano anche una terza, una quarta negli anni a venire, è un'esperienza che si è rivelata molto importante per i nostri studenti, sia quelli che hanno partecipato l'anno scorso, che hanno poi espresso il loro entusiasmo, l'apprezzamento per questa iniziativa e spero anche per quelli che sono qui quest'anno. Vorrei sottolineare appunto che questa iniziativa non è un evento isolato, proprio grazie anche alla collaborazione con Michele Casella e con il gruppo di PUL, da alcuni anni sia i corsi di laurea in lettere che di scienze della comunicazione stanno creando una serie di iniziative per mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro, con esperienze appunto importanti a livello nazionale e l'anno scorso abbiamo avuto anche degli ospiti internazionali. Quindi è per i nostri studenti un'occasione preziosa per ascoltare delle voci che difficilmente diciamo avrebbero la possibilità di ascoltare all'interno dei tradizionali corsi di studio e anche appunto per avere poi un confronto diretto con la realtà del mondo del lavoro e come il mondo del giornalismo nelle sue variegate sfaccettature contemporanee si sta evolvendo. Questa serie di iniziative diciamo fa sì che oltre a questo episodio di Link, oramai questo appuntamento annuale, l'Ateneo di Bari abbia messo in campo in collaborazione proprio con PUL la rivista che voi avete tutti visto in questi giorni qui in distribuzione e anzi ci auguriamo che proprio dagli studenti che partecipano a queste iniziative possano poi venire le nuove leve che negli anni futuri lavoreranno insomma a questa rivista, noi facciamo più o meno annualmente una selezione e quindi questo è anche un invito per poi dopo aver ascoltato diciamo la teoria in questo seminario chi si appassionasse possa continuare appunto con un'esperienza poi di lavoro concreta all'interno dell'università in contatto con una redazione vera di un giornale e poi appunto quest'anno ci sono dei giovani studenti che collaborano all'organizzazione che sono stati preparati a lavorare qui a Link nell'ambito di un seminario sempre tenuto da Michele Casella sull'organizzazione degli eventi culturali quindi ecco una serie di iniziative che stiamo cercando di mettere in campo con le poche risorse ahimè di cui oggi l'università dispone ma insomma che mi sembra stiano dando dei risultati e io di questo non posso che essere ovviamente contenta e insomma spero che i nostri studenti sappiano cogliere l'importanza il valore di di questa occasione e sappiano metterla a frutto grazie professoressa e un rapporto che già c'è tra tra pool e gli studenti naturalmente che collaborano con la nostra rivista e il corso di scienze della comunicazione è già in atto noi speriamo lo dico già adesso che che possa diventare sempre più stretto nel corso del tempo e quindi io cedere la parola al professor Moro che è il coordinatore del corso di studi in scienze della comunicazione sì grazie è un dovere istituzionale come si dice perché anche questi sono importanti portare il saluto del corso di studi a questo a questa iniziativa noi possiamo poter dire prodromi forse della saluto del rettore di domani quindi ci sentiamo un po' come dei messaggeri che anticipano il rettore io brevemente mi riallaccerei a ciò che diceva prima la collega noi c'è una moltiplicazione un moltiplicarsi di iniziative simili nel nostro ateneo legati ai nostri corsi di studi sono a volte iniziative occasionarie a volte come in questo caso iniziative che si iniziano a strutturare e che diventano diventano stabili nel tempo e così via per noi questo è molto importante perché perché il tentativo che facciamo in mezzo a tante difficoltà come giustamente veniva detto prima è quello di di provare a far fare ai nostri studenti un'esperienza che sia un'esperienza di qualità nei corsi di studi e questa esperienza di corsi di studio di qualità non può che venire anche dall'incrocio fra la realtà esterna e interna dell'università i nostri colleghi, i nostri docenti, i corsi istituzionali e il legame forte col contesto istituzionale senza questo legame la qualità dei corsi non può essere percepita, questo è uno degli elementi fondamentali per valutare la nostra qualità, ce lo dice anche il Ministero ma al di là del dettato ministeriale è una cosa alla quale noi crediamo profondamente che vogliamo anzi continuare ad approfondire quindi anche con Michele insomma abbiamo in questi giorni un po' chiacchierando pensato come si può fare a continuare a migliorare e così via io vorrei chiudere questo perché non voglio togliere tempo soltanto aggiungendo un'ultima cosa a questo discorso della qualità noi dobbiamo impegnarci innanzitutto chi ha la responsabilità istituzionale dei corsi di laurea delle strutture di ricerca ma ci dobbiamo anche credere un po' di più cioè dobbiamo iniziare a credere un po' di più tutti che sia possibile anche in Università del Sud fare esperienze formative di qualità e che esperienze riformative di qualità non significhi necessariamente andare al nord questo è un po' responsabilità, diciamo, innanzitutto è responsabilità nostra e quindi nessuno vuole, dobbiamo innanzitutto crederci noi docenti e fare di tutto perché questo si realizzi però questo è anche, come posso dire, abbiamo bisogno di sostegno da questo punto di vista di sostegno che può essere per certi versi critica e spesso ad esempio i giornalisti giustamente hanno esercitato questa critica nei nostri confronti ma non è soltanto critica, è anche supporto è anche concertazione fra le istituzioni e concertazione fra istituzioni e realtà imprenditoriali e da questo punto di vista noi ancora dei passi avanti dobbiamo fare dobbiamo crederci un po' di più l'università non è, come dire, un luogo cioè l'università, la qualità dell'università, la sua presenza è uno degli elementi fondamentali per la qualità della vita di una città e di una regione a noi non è retorica, ci dobbiamo credere di più a questo tutti quanti ma non soltanto dal punto di vista, come posso dire, teorico dell'enunciazione ideologica ma anche nei fatti io vi faccio un esempio e poi chiudo è un po' polemico questo esempio però ciascuno si porta dentro le amarezze in questi giorni, il 3, domani in un importantissimo liceo barese il più celebre, quello che identifica la città con le istituzioni secondarie un'università del nord giusto per non fare il nome, l'università di Trento viene a fare le preselezioni le preselezioni dei suoi studenti degli studenti migliori perché dicevo io voglio fare la preselezione dei studenti migliori dei licei della Puglia per portarmeli a Trento e i colleghi capi di istituto di alcuni licei baresi hanno accettato questo come se fosse un fatto normale cioè come se fosse un fatto normale che i loro studenti migliori possano fare in anticipo di sei mesi rispetto a quanto stabilito dal ministero le preselezioni per un'università del nord c'è un pregiudizio ideologico pazzesco da questo punto di vista che passa anche da chi dovrebbe avere il ruolo istituzionale ed educativo nei confronti dei ragazzi voi capite che poi parlare di sviluppo del sud di sviluppo di una città e così via quando non c'è questo concerto istituzionale rischiano di essere parole vuote allora rispetto a questi comportamenti distruttivi noi invece dobbiamo avere atteggiamenti costruttivi di collaborazione per creare realtà di maggiore qualità grazie grazie mille anche noi ci auguriamo davvero di poter continuare a collaborare in particolare con il professor Moro e con il corso di scienze della comunicazione adesso io vi introduco all'argomento di questa mattina ma in maniera molto veloce soprattutto presentandovi coloro che saranno poi i protagonisti abbiamo voluto ritagliare uno spazio per raccontare in che modo appunto offline e online possano integrarsi con delle idee che speriamo possano essere originali che possono anche essere delle piccole scintille per far nascere qualcosa di diverso quindi vi parleremo del mondo anche della realtà integrata del mondo della realtà virtuale e del modo in cui vengono utilizzate nel campo editoriale o nel modo in cui potranno essere utilizzate da qui a pochi anni e per farlo abbiamo innanzitutto chiesto una collaborazione a Italo Spada che lavora nel centro di ricerca CETMA e ci parlerà anche di che cos'è questo centro di ricerca e in che modo stanno lavorando anche sulle idee di questa mattina e poi abbiamo voluto raccontare un po' il mondo del design e dei progetti di design applicati all'editoria e l'abbiamo fatto innanzitutto partendo anche dalla nostra rivista e dal modo in cui è stata concepita perché abbiamo sempre cercato di fare ciò a cui faceva riferimento anche Cristian Rocca nella prima giornata cioè cercare un'integrazione quanto più vicina possibile alla perfezione tra i contenuti e il contenitore quindi il layout il lavoro che realizziamo a livello editoriale cerca sempre di integrare questi due elementi in maniera sinergica in modo da rendere al lettore la lettura quanto più piacevole e facile possibile quindi di introdurlo alla lettura in maniera felice e quindi insieme a noi ci saranno anche Vincenzo Orecchia che è il direttore creativo di Poole e di iMood e invece il direttore dell'area multimediale che è Giuseppe Morea però per introdurli avevo chiesto ad Anna Media Ferretti che è la direttora di I Like Puglia un suo intervento anche di carattere curioso una testimonianza buongiorno a tutti sì mi fa piacere perché insomma io rappresento in tutto questo contesto che sto osservando da due giorni con grande entusiasmo la testimonianza che il link lancia dei messaggi non solo a voi giovani anzi a voi giovani lancia delle opportunità a quelli un po' più avanti negli anni come me che fanno giornalismo da un po' di tempo lancia un messaggio che è quello che qualcosa sta cambiando che non si può far finta di niente io sono l'esempio perché in un momento cruciale della mia vita dopo una esperienza molto importante in televisione dovendo decidere che cosa fare se essere accompagnata in una nuova esperienza televisiva sul territorio o cambiare strada ho deciso di cambiare strada perché la strada che ho deciso di percorrere è proprio quella che il link vi sta raccontando egregiamente in questi giorni e ve la sta raccontando in due modi attraverso tutte le tecniche possibili per poterla attuare e cioè parliamo ovviamente di giornalismo online parliamo di giornalismo che riesce a contaminarsi ad integrarsi con i social e lo fa in maniera anche diciamo soprattutto insomma rendendo merito e omaggio alla vostra attenzione trattando temi che per molti di noi che fanno giornalismo altro che quello politico che quello di cronaca possano sembrare diciamo leggeri ma io credo che siano l'ingrediente giusto per attirare l'attenzione di chi ha deciso forse di voler comunicare nella sua vita di voler comunicare sempre badando a due principi fondamentali che sono quelli del giornalismo che sono la verità il rispetto della notizia e il racconto della realtà però deve capire che adesso il metodo è cambiato e che il mezzo è la rete ma senza mai trascurare quell'impianto tradizionale che anche Poole poi sa raccontare che è la carta che è la percezione materiale anche attraverso i libri del racconto e quindi io vorrei concludere in qualche modo anche stimolando i miei colleghi giornalisti professionisti da un po' di anni a rimettersi in gioco perché questo è un momento in cui le opportunità si devono cogliere con I Like Puglia che io vi invito insomma a guardare l'esperienza e poi magari mi piacerà sapere da chi invece lavora con il mezzo online e con la rete già da tempo se è una strada che mi sono immaginata giusta con I Like Puglia rispettando la tradizione della notizia io faccio notizie racconto notizie ma in realtà raccontando notizie mi sono accorta che c'è un altro percorso che forse può essere importante per un discorso integrativo soprattutto del territorio perché anche in questo contesto così globale non bisogna dimenticare il locale io sono assolutamente d'accordo con quanto ho sentito in apertura di questo nostro incontro e credo che l'Università di Bari debba rivendicare per prima quel ruolo che forse le viene sottratto sicuramente il contesto spesso è dispersivo accade sempre però in tutte le cose ormai abbiamo imparato che se non ci prendiamo noi quello che vogliamo non ce lo dà nessuno e quindi credo caro professore che lei abbia detto delle cose sacrosante ma penso che tutti noi facendo rete attraverso quella rete e onorando il nostro contesto qualche cosa la possiamo continuare a fare io su questo principio ho basato il mio live magazine che è quello della rete aprendo il giornalismo non me ne vogliano i colleghi iscritti come me all'ordine da tanto tempo questo non è un mezzo di contestazione è un mezzo di inclusione aprendo il giornalismo la notizia il racconto alla società civile tant'è che nel mio quotidiano c'è una parte dedicata a come il cittadino vede il suo territorio racconta un libro vede uno spettacolo dice che cosa ne pensa rispetto a quello che vive nella scuola nel mondo del lavoro credo che questo sia il principio importante su cui ragionare su un nuovo mezzo per fare informazione questo è il momento il link deve andare avanti perché gli spunti offerti in questi giorni sono spunti caratterizzanti a livello tecnico ma sono straordinari a livello teorico e poi pratico e soprattutto quelli che come me fanno informazione non possono che accompagnare queste esperienze e mettersi a disposizione quindi io sono ben felice di essere in qualche modo integrata in questo discorso sono anche molto molto curiosa di sentire oggi di apprendere un altro tassello in più che cos'è la realtà aumentata è così cioè voi lo sapete io non lo so quindi i nostri amici che sono qui ci racconteranno anche questa cosa importantissima e quindi credo che anche quest'altro tassello completerà fino a domani un percorso importante su cui però ognuno di noi deve essere protagonista senza aspettare che qualcuno lo prenda per mano o si speri che il giornale la televisione che purtroppo tranne voglio dire esperienze importanti non hanno più la forza di essere di intercettare l'entusiasmo le potenzialità che dei giovani come voi possono offrire siamo sommersi dai contratti di solidarietà le realtà chiudono quindi noi dobbiamo aspettare che siate proprio voi a in qualche modo magari fra qualche anno a chiedere che qualcuno di esperienza possa far parte del vostro progetto quindi un grande in bocca al lupo quindi per finire vi volevo solo dire abbiamo iniziato a distribuire alcune delle copie di otto e mezzo solo perché domani ci sarà l'intervento di Gianni Canova nella giornata dedicata a giornalismo e audiovisivo questa è una rivista che Gianni Canova ha iniziato a realizzare che vuole essere proprio in controtendenza rispetto al modo in cui si fa critica in questo momento in Italia oggi pomeriggio per chi non l'avesse avuto ne distribuiremo altre copie questa qui e poi per chi non avesse ancora preso pull siccome si parla di pull adesso prenderemo delle altre copie anche perché ciò che diremo qui su questo palco sarà direttamente riferito anche al modo in cui viene sviluppato il giornale quindi cedo la parola a Italo Spada del Consorzio CETMA grazie si salve buongiorno a tutti intanto grazie per essere venuti e poi volevo ringraziare i miei amici di pull che hanno permesso questo mio intervento io inizierò con giusto due sintetiche slide per spiegarvi un po' la mia figura e il lavoro che faccio da circa 15 anni il Consorzio CETMA è un consorzio di ricerca privato che opera da circa 20 anni ci avviciniamo proprio a novembre al ventennale delle nostre attività ed è un centro di ricerca integrata dove ci occupiamo di diverse tematiche fondamentalmente la caratteristica del Consorzio è proprio nel distinguersi in tre divisioni operative una dedicata all'ingegneria dei materiali e delle strutture un'altra dedicata all'ingegneria informatica e un'altra dedicata al design capite bene che queste tre discipline queste tre divisioni integrate possono portare spesso a un prodotto finito che cosa intendo innanzitutto dalla ricerca spesso non escono dei prodotti confezionati e pronti per il mercato più che altro lavoriamo su prototipi io durante i miei interventi faccio un esempio molto classico che spesso tende a semplificare quello che il CETMA fa con tutte le attività che facciamo ed è quello del telefono cellulare praticamente se mi mettessi nei panni di un imprenditore che per esempio vuole investire nell'ambito del mobile e un'idea creativa per sviluppare un nuovo telefonino un nuovo device posso tranquillamente approcciarmi al CETMA con un'idea concettuale la divisione di design si occuperà di concepire tutto quello che è lo stile la forma e l'estetica di un possibile device la divisione di ingegneria dei materiali studierà quali sono i materiali innovativi da applicare a un prodotto industriale la divisione di ingegneria informatica permetterà a questo device di vivere attraverso un software in tutto questo siamo circa 80 ricercatori e ci dividiamo su diversi livelli e da 20 anni crediamo che la ricerca ha ancora un ruolo molto molto importante per tutto questo paese in questa slide ho sintetizzato alcune delle attività delle quali ci occupiamo tra cui appunto tecnologia materiali avanzati ricerca applicata soluzioni gestionali sviluppo competitività innovazione e automazione nell'ambito del consorzio CETMA all'interno del consorzio CETMA e all'interno della divisione di design da circa 12 anni dirigo un'area che si occupa di NIMU Media ho semplicemente elencato quali sono le maggiori attività delle quali ci occupiamo giusto per farvi capire poi come si arriva alla realtà aumentata perché pur essendo una tecnologia in via di sviluppo ha bisogno di una conoscenza e di un know-how per essere integrata a quello che oggi viene definito il web 3.0 e la tecnologia 3.0 ovvero un'integrazione di tecnologie innovative noi fondamentalmente ci occupiamo prevalentemente il nostro focus è sulla modellazione e l'animazione 3D avanzata che cosa intendo per avanzata oltre a fornire servizi per esempio per il cinema quindi soggetti o ambienti in 3D che spesso vengono utilizzati per visual effects o set televisivi ci occupiamo proprio di modellazione 3D in termini di ricerca quindi spesso cerchiamo di risolvere tutte quelle problematiche che affrontiamo durante l'utilizzo di software specializzati e spesso siamo proprio noi che cerchiamo di dare dell'input agli sviluppatori di questi software proprio per migliorare e focalizzare le funzionalità di uno strumento e di strumenti che oggi diventano sempre più complessi dieci anni fa un software per la modellazione 3D è un software che ci permetteva di arrivare a dei risultati soddisfacenti faccio un esempio banale Pixar è la maggiore azienda cinematografica che sfrutta questa tecnologia in termini di 3D ci volevano quasi 50 mila euro per acquistare un software che permettesse una serie di funzionalità oggi il mercato è completamente cambiato sono usciti diciamo molteplici software ma è cambiato soprattutto l'approccio per farvi un esempio la mia formazione si è basata soprattutto su uno studio universitario seguito poi da una passione che era quella del 3D e l'unico mezzo per arrivare a una competenza era studiare dei manualoni spesso costituiti da due e trecento pagine la tematica era abbastanza conosciuta e sconosciuta e diciamo l'unico soggetto che utilizzava in maniera attiva oltre all'industria cinematografica questa tipologia di tecnologia era l'azienda militare non a caso anche la NASA era diciamo il centro dello sviluppo dei maggiori software di simulazione 3D in tutti questi anni e proprio qui al sud il CETMA ha cercato di puntare su questa tecnologia perché spesso dovevamo rivolgerci o al nord o addirittura all'estero per avere dei servizi soddisfacenti in quest'anni abbiamo cercato di formare personale quindi formare competenze e oggi ci riteniamo almeno al sud uno dei maggiori centri che offrono servizi di 3D insieme alla modellazione e all'animazione tridimensionale che utilizziamo in diversi settori tra cui beni culturali industria e commercio abbiamo anche lo sviluppo di applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata vi spiegherò dopo un po' le differenze adesso giusto continuo con questa carrellata di servizi naturalmente il 3D porta all'utilizzo e all'integrazione di diverse tecnologie tra cui la motion capture motion capture è quel sistema quella tutina forse vi è capitato di vederla in qualche backstage di film che permette la registrazione del corpo umano attraverso una serie di sensori e la replica del movimento su un avatar 3D una tecnologia che viene utilizzata proprio per far sembrare questi umanoidi virtuali e apparentemente umani a tutti gli effetti quindi replicando un movimento naturale e gestuale oggi si è arrivati anche all'integrazione di un'intelligenza artificiale quindi non solo riusciamo a riprodurre un modello umanoide 3D composto di tutti quelli che sono gli elementi anatomici muscoli pelle eccetera ma riusciamo anche a fornire un'intelligenza artificiale che permetta al soggetto virtuale di agire e comportarsi secondo un codice definito o delle azioni definite o simultanee ci occupiamo naturalmente anche di progettazione CAD per l'industria il CAD è una disciplina diversa dalla modellazione 3D perché il CAD ragiona in termini parametrici e spesso viene utilizzato per realizzare dei modelli che poi vanno direttamente trasferite su macchine prototipali e quindi ci permettono di ottenere da un modello 3D un prototipo fisico naturalmente il GIS e sistemi territoriali informatizzati una competenza che stiamo sviluppando soprattutto in questi ultimi anni e ci consente oltre ad azioni di tipo classico quindi topografico la realizzazione di mappe con georeferenziazione stiamo cercando di trasferire questi sistemi che pochi anni fa erano abbastanza complessi in mappe interattive che permettono anche nel mondo del turismo di concepire le risorse attraverso una mappa interattiva e quindi avere uno sguardo su tutta quella che è la rete che viene integrata in questi sistemi informativi naturalmente ci sono delle discipline molto più complesse che sono quelle dell'ottimizzazione e il reverse di geometrie digitali questo che cosa vuol dire? credo abbiate sentito parlare di scanner 3D lo scanner 3D è uno strumento che ci permette di scansionare tridimensionalmente un oggetto e quindi restituirlo attraverso una nuvola di punti o una geometria in un modello digitale detto così sembrerebbe molto semplice ma prima di affinare una metodologia o arrivare a un modello geometrico funzionale ci vogliono una serie di competenze che riguardano proprio l'ottimizzazione e la decimazione della geometria non mi inoltro in discorsi molto più complessi credo che non sia la platea giusta progettiamo interfacce e software e app per dispositivi mobile soprattutto per l'industria per farvi un esempio dotiamo le catene di montaggio delle maggiori case diciamo industriali italiani giusto per farvi qualche nome avio ferrari lamborghini o porsche soprattutto nel settore automotive ma anche nel settore dei trasporti in generali quindi aeronautica e anche treni soprattutto dotiamo appunto le catene di montaggio di strumenti interattivi che permettono di facilitare quello che viene per esempio detto il learning by doing immaginate che nelle industrie soprattutto nelle catene di montaggio ogni tottore viene interrotto il flusso lavorativo per trasferire nozioni informative a chi opera in quel settore quindi si fanno delle classroom spesso proprio negli stabilimenti dove un tutor trasferisce competenze ai lavoratori delle aziende attraverso un tablet e puntando la macchina sulla quale stiamo operando posso attraverso la realtà virtuale la realtà aumentata o delle applicazioni interattive imparare da solo il contenuto di quella macchina quindi visualizzare capire come funziona ma il vantaggio più grande è che posso portare tutto quello che ho approfondito in situ a casa quindi posso trasferire anche il dato interattivo digitale o 3D a casa facendo una formazione dedicata ci occupiamo naturalmente di virtual tour fotografici 360 un'altra tecnologia che sta funzionando molto nel settore dei beni culturali quindi attraverso delle fotografie sfere che riusciamo a visitare mondi o ambienti anche attraverso il remoto ma soprattutto alla fotografia abbiamo mixato il 3D quindi facciamo un virtual tour 360 attraverso una macchina fotografica e lo mixiamo a un virtual tour 3D di un elemento per esempio architettonico un edificio che non esiste più quindi siamo molto abituati ai virtual tour 360 fotografici ma ancora l'integrazione con il 3D abbastanza innovativa naturalmente le nostre competenze ci spingono spesso ad allestire spazi e parlo di musei fiere o addirittura aziende perché oggi dopo tanto sforzo siamo riusciti a portare la realtà virtuale la realtà aumentata come strumenti proprio per aumentare quello che per esempio può essere il concetto di showroom nel caso per esempio automotive stiamo oggi progettando con Lamborghini una concessionaria completamente virtuale dove non ci sarà più bisogno di avere grandi spazi molto costosi dove esporre tutte le macchine ma ci saranno esposte solo cinque macchine le altre cinque saranno virtuali e visitabili attraverso sistemi immersivi dedicati dove non ci stiamo limitando a visualizzare una macchina in 3D o poterci entrare dentro questo l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto circa otto anni fa quello che stiamo cercando di realizzare adesso è proprio il ritorno emozionale dei materiali che costituiscono la macchina quindi stiamo studiando tutti quelli che sono il feedback force quindi il ritorno la vibrazione di un tablet che ci può far sentire il materiale di uno sterzo piuttosto che cambiare in tempo reale puntando una macchina il colore dei sedili o il tipo di volante insomma ci stiamo spingendo un po' oltre perché questo è quello che ci viene chiesto dall'industria naturalmente nei musei lavoriamo moltissimo attualmente stiamo allestendo quasi 80 musei in tutta Europa e anche in Puglia ci stiamo dando da fare con musei che oggi spesso finiscono col diventare luoghi abbandonati perché o per un motivo o per l'altro non si riesce a creare attrazione quindi pubblico e quindi denaro naturalmente ci occupiamo anche di tutto quello che è lo sviluppo di videogiochi videogiochi sia per l'intrattenimento ma soprattutto nel settore medico quindi in questo momento stiamo lavorando attraverso dei finanziamenti europei su videogame che permetteranno appunto la riabilitazione di soggetti per esempio emiplegici o post trauma quindi degli strumenti innovativi che sfruttano realtà virtuale in realtà aumentata proprio per migliorare quelli che possono essere stati traumi motori qui ho fatto vi faccio vedere questa slide giusto per farvi capire nel settore dei beni culturali che è diciamo il focus delle nostre attività in che modo lavoriamo partendo dal basso voi avete il primo livello quindi noi ci occupiamo di tutta quella parte che è il rilievo e la diagnostica di un bene culturale quindi abbiamo scanner 3D sia a luce strutturata che servono per piccoli oggetti sia grossi scanner che servono per realizzare scansioni aereo a volo d'uccello nel senso che riusciamo a digitalizzare anche interi edifici e abbiamo una stampante 3D che diciamo è una tecnologia che sta avendo un grossissimo successo perché da una parte ci permette di materializzare quello che è digitale quindi io posso scansionare vedete l'ultima slide con quella specie di cerchio bianco scusate se è troppo piccolo però è praticamente un processo dove noi abbiamo scansionato in 3D con uno scanner a luce strutturata un medaglione aureo dell'età del bronzo ritrovato nel sito monumentale di Rocca Antica verso Lecce l'abbiamo tradotto in una geometria digitale e abbiamo stampato un modello in ABS che è un materiale plastica fondamentalmente e che cosa ne abbiamo ottenuto intanto una copia fedele di un reperto che oggi è chiuso in una cassaforte che vale quasi un milione e mezzo di euro dall'altro facilitiamo anche la fruizione museale per tutti quei soggetti che hanno problemi per esempio patologie alla vista quindi non potranno apprezzare visivamente un oggetto ma lo potranno toccare considerando anche quelli che sono tutti i decori e i bassorilievi abbiamo anche ultimamente ci stiamo specializzando nella ricognizione droni i droni sono quegli elicotterini forniti di telecamera che ci permettono di ispezionare ambienti o spazi dall'alto siccome non ci limitiamo a quello che il mercato propone ma ci spingiamo sempre un po' oltre adesso stiamo lavorando sull'installazione di scanner 3D e termocamere proprio sui droni in modo da poter effettuare delle scansioni aeree di intere zone spesso archeologiche e molto grandi nel secondo livello vedete come da tutti questi device nesce un dato digitale questo dato digitale va trattato per essere poi fruito in diversi ambiti è chiaro che la potenzialità di un modello 3D è che una volta ottenuta la geometria noi possiamo utilizzare questo modello 3D in diverse modalità possiamo realizzare un filmato in Windows Media Player con un'animazione che fa vedere l'oggetto i suoi dettagli possiamo utilizzare questo modello 3D per posizionarlo su una piattaforma web e quindi poter interagire in tempo reale ruotandolo scalandolo ed esplorandolo in real time possiamo utilizzare un dispositivo mobile come un telefonino per puntare questa scrivania e vedere l'oggetto digitale come se fosse qui in questo momento nel terzo livello approfondisco quello che è il nostro task maggiore siamo abbastanza bravi nel realizzare modelli 3D fotorealistici che cosa intendo per fotorealistici intendo praticamente tutti quei modelli completi di tutte quelle caratteristiche fisiche reali che succedono in natura passatemi il gioco di parole la luce per esempio è un elemento importantissimo nella nostra vita quindi tutto in funzione della luce replicare il funzionamento della luce in un ambiente artificiale è una competenza molto complessa noi ci occupiamo proprio di questo e in questo momento io mi sto occupando di un progetto europeo che si occupa proprio dello studio dei fotoni luminosi in ambienti di realtà virtuale e in tempo reale proprio perché dobbiamo cercare di trasferire al nostro utente il massimo dell'estetica di un modello 3D altrimenti rischiamo proprio oggi che il mercato e questa industria è a un livello altissimo di fruire dei posticci e non dei modelli digitali funzionali il quarto livello vi fa capire come ci occupiamo di progettazione di set virtuali per televisione cinema progettiamo teatri virtuali 3D immersivi per musei e spazi sociali e ci occupiamo soprattutto di applicazioni mobile interattive che integrano però le tecnologie della realtà virtuale e della realtà aumentata arriviamo alla realtà aumentata oggi si sta parlando moltissimo di queste tecnologie personalmente uno dei maggiori sforzi che cerco di fare è quello di fare chiarezza tra le diverse tecnologie ma soprattutto tra i diversi termini che oggi popolano il mondo del web piuttosto che il mondo della comunicazione si parla di virtual reality si parla di 3D si parla di realtà aumentata che poi è augmented reality si parla di immersione stereoscopia cinema 3D insomma siamo nel pieno di quella che viene considerata la rivoluzione digitale 3.0 che a differenza del 2.0 che connotava l'integrazione del social il 3.0 integra una serie di tecnologie che vengono considerate esperienziali quindi non solo un punto di vista visivo dell'utente che dinanzi a un'applicazione ma l'interazione col contenuto digitale e l'esperienzialità della frizione questo è un dato molto importante la realtà aumentata i miei colleghi poi si occuperanno di spiegarvi nello specifico le caratteristiche di questa tecnologia quindi io vado in maniera molto veloce anche perché non voglio togliere tempo i miei relatori gli altri relatori fondamentalmente la tecnologia si basa su cosa l'integrazione tra un flusso video quindi se noi abbiamo un telefono cellulare e sfruttiamo la telecamera del telefono cellulare che oggi è arrivata anche ad avere una definizione molto alta e a questo ci aggiungiamo un software che nel momento in cui la telecamera punta integra e carica contenuti digitali noi avremo quella che viene definita la mixed reality ovvero quello che vede l'occhio umano più l'aggiunta di un contenuto digitale nelle due immagini vedete due esempi molto banali il primo è quello che si punta attraverso un tablet una rivista e l'immagine che fino ad oggi è stata definita come 2D quindi su un piano viene sembra uscire fuori come se fosse in 3D è proprio questo il valore aggiunto della realtà aumentata cioè ci aiuta sia in 2D che in 3D ad aumentare la percezione di quello che il nostro occhio sta vedendo in questo momento nella seconda immagine invece vedete un nostro collega che indossa degli occhialini che integrano una telecamera ed è dinnanzi a un affresco in particolare questo è uno dei cicli pittorici della basilica di Cerrate un'abbazia che si trova sempre verso Lecce ha tutti gli affreschi picchettati perché ha subito diversi restauri nel tempo l'utente indossando degli occhialetti o puntando l'affresco picchettato con un telefonino o con un tablet potrà fruire l'affresco restaurato digitalmente ok questo vi sembrerà una banalità però come sappiamo e soprattutto in Italia e soprattutto in questo momento abbiamo dei problemi con i nostri beni culturali che è un bene che abbiamo e che non ci può levare nessuno l'unica cosa che rischiamo e di perderli nel tempo perché non li curiamo un'applicazione del genere ci permette di valorizzare non solo da parte utente ma anche da parte di istituzioni cosa vorrebbe dire avere quello affresco restaurato e quindi stimolare tutte quelle operazioni per le quali si richiedono anni e anni di processi la realtà aumentata contro la realtà virtuale due tecnologie completamente diverse che però spesso ironiamente vengono mixate nella prima immagine vedete quella che viene intesa come realtà virtuale è il nostro centro di realtà virtuale che è il secondo in Europa per grandezza dove praticamente l'utente è in una specie di cinema e attraverso degli occhialetti che sfruttano il 3D che è più o meno quello cinematografico naviga anche attraverso l'ausilio di nuovi dispositivi tipo il Kinect di Xbox che è quello strumento che ci permette di simulare attraverso le mani il movimento del mouse navigherà ambienti ricostruiti in 3D sfruttando un'esperienza sensitiva così ci piace chiamarla in tutto questo il contenuto digitale è un ambiente ricostruito in 3D nella seconda immagine invece vedete quello che viene definito come realtà aumentata ovvero punto un'immagine un contenuto o una superficie e o un'esplosione di un modello 3D tra una e l'altra ci sono molte differenze la prima è in termini di costi oggi per fruire di un sistema di realtà virtuale immersivo e 3D il minimo che possiamo spendere è circa 35.000 euro quello che riusciamo a fare con la realtà aumentata anche se in maniera diversificata lo riusciamo a fare anche con 5-6.000 euro adesso non prendete come definiti questi costi giusto per darvi un ordine di costo in quanto per la prima soluzione abbiamo bisogno di occhialini proiettori 3D emitter e spazi dedicati mentre nel secondo caso sfruttiamo appunto quello che è semplicemente la funzione di una videocamera con l'integrazione di un software anche con la postproduzione che è quella classica quella che viene fatta durante la creazione di un film chi lavora come me nei visual effects spesso si trova un passo dopo l'azione del filming quindi giriamo la scena a noi arriverà la scena già definita girata sulla quale dobbiamo intervenire creando degli effetti la differenza tra la postproduzione e la realtà virtuale e la realtà aumentata è fondamentale perché la postproduzione si basa ancora su dei processi di calcolo quelli che viene definito il rendering in termine tecnico che sono dei processi che ancora oggi richiedono tempi costi e investimenti per avere dei risultati notevoli da un punto di vista estetico la realtà virtuale e la realtà aumentata invece si basano su quella che è un po' la filosofia che noi chiamiamo del gaming cioè dei modelli meno definiti più leggeri ma che permetteranno un'interazione con l'utente quindi da una parte nel cinema siamo osservatori di un prodotto nella seconda ipotesi interagiamo con un prodotto e con un contenuto digitale quindi come si faceva circa dieci anni fa quando si costruivano i primi siti web attenzione non mettete immagini troppo pesanti si diceva dieci anni fa su un sito web altrimenti quando vado ad aprire la piattaforma aspetterò un bel po' perché l'immagine si carichi del tutto ecco tra il real time e la post produzione c'è proprio questa differenza quindi dei modelli meno definiti ma più veloci e più focalizzati sull'interazione queste due immagini dietro vi fanno vedere due modelli di avatar il primo avatar intendo umanoidi quindi dei corpi umani ricostruiti in 3D dotati di completi di sistema anatomico o intelligenza artificiale vedete come i primi due modelli sono molto dettagliati anche in termini di riproduzione dei vestiti connotati della pelle o particolari estetici il secondo è un po' bruttino tra virgolette per un modello più leggero che comunque è comprensivo di un'anatomia un'intelligenza artificiale che però deve essere meno definito perché un tablet non è uguale a una postazione di lavoro con 24 processori o 50 processori ecco questo è un po' ancora uno dei limiti fondamentalmente la realtà aumentata ha due caratteristiche una fruizione indoor quindi in ambienti interni e una fruizione outdoor per la fruizione outdoor che è spesso quella che viene utilizzata per i beni culturali giusto per farvi un esempio su Lecce ci sono moltissime chiese molte di queste chiese hanno delle nicchie dove durante il barocco c'erano delle statue che sono state perse beh cosa riusciamo a fare puntare attraverso un tablet o un telefonino la nicchia vuota reale e vedere la statua che una volta c'era allo stato originale ecco qual è il vantaggio di questa tecnologia fondamentalmente cosa sfrutto sfrutto un dispositivo mobile all'interno del dispositivo mobile ho due altri componenti che sono un accelerometro e un giroscopio che ci permette di georeferenziarci cioè riconoscere la posizione la mia posizione quella del mio device in un'area spaziale tracciata naturalmente interfacciata con un gps questo mi permette appunto di girare in una città ed avere dei contenuti georeferenziati in uno la statua piuttosto questo grosso lavoro che stiamo facendo a Roca Roca Antica è uno dei più grossi uno dei diciamo più importanti siti archeologici dell'età del bronzo completamente invisibile tra virgolette perché poco leggibile è rimasto poco però abbiamo due livelli uno dell'età del bronzo e uno medievale oggi un utente poco esperto arriverà sul sito e quello che comprenderà di questo bene enorme sarà veramente poco perché non tutti abbiamo le nozioni per comprendere o leggere bene un sito archeologico ma puntando un tablet io potrò vedere prima la città di Roca ricostruita nell'età del bronzo quindi vederla ricostruita in 3D ma potrò addirittura vedere il secondo livello che è quello medievale cioè la città costruita sopra quella dell'età del bronzo servendomi di un'applicazione in realtà aumentata che tra tutte le caratteristiche anche quella di essere low cost perché uno dei nostri sforzi è quello di concepire queste tecnologie come degli strumenti da 1,99 euro acquistabili su un market virtuale in Dorn naturalmente l'applicazione è più diciamo è più semplice da utilizzare e da programmare quindi si basa fondamentalmente su delle aree di interazione fisiche che noi andiamo ad individuare tra esterno e interno tra marker e markerless sono vedete aggiungo sempre termini sempre di termini differenti io lavoro in questo settore da 15 anni quindi immagino degli utenti poco esperti che confusione abbiano in mente riguardo a tutta questa terminologia che oggi è diventato un vero e proprio slang quindi fa proprio parte della nostra lingua e della nostra cultura molto banale se nel primo caso realtà aumentata marker based si basa fondamentalmente nell'inquadrare una specie di stampa o francobollo credo che tutti abbiate avuto a che fare con i QR code che sono quelle specie di francobolli che rimandano a portali o a piattaforme web ecco in questo caso vedete come nella prima immagine sto puntando un francobollo e su questo francobollo viene visualizzato nel display del telefonino un contenuto digitale 3D che cosa succederà che muovendomi attorno questo francobollo o muovendo il francobollo l'oggetto digitale rimarrà vincolato a quello che è il perimetro d'azione vedete il foglio bianco e il marker nero e vedete che l'oggetto si appoggia proprio su questo marker nero negli anni la tecnologia è migliorata è migliorata in che modo eliminando quello che era il marker e permettendo a qualsiasi oggetto o a qualsiasi superficie di divenire un'area di interazione sulla quale caricare dei contenuti digitali vi sembrerà una banalità però immaginate una collezione di statue di bronzo ritrovate in un fondale portate in un museo con accanto tutti questi francobolli era un po' scomodo poco estetico ecco perché la ricerca è andata avanti e adesso riusciamo ad eliminare il marker e a individuare delle aree di interazione semplicemente riconoscendo o dei rettangoli o delle sfere immaginarie e virtuali sulle quali caricare dei contenuti vedete nella seconda immagine come uno scatolino può diventare base per la fruizione di un contenuto digitale naturalmente è un'evoluzione che non si ferma mai e chi fa il mio lavoro si trova dopo due mesi che pensa di aver inventato qualcosa e dopo 50 convenni si accorge che un colosso come Google esce con un paio di occhialini che integrano tutto questo studio di 10 o 15 anni rimaniamo sempre un po' sbalorditi questo è il caso di Google Glasses che sono oggi la grande novità di cui tutti sentiamo parlare e ho avuto la fortuna di testarli a SIGRAF 2013 una grossa conferenza che si tiene a Los Angeles e praticamente i Google Glasses sono la diciamo la definizione assoluta del concetto di tecnologia portatile e realtà aumentata perché ci consentiranno di visualizzare sulle nostre lenti delle interfacce che a loro volta ci permetteranno di interagire con contenuti digitali 3D siccome mi occupo di ricerca e non siamo come CETMA un'azienda che vende servizi ma ci offriamo competenze e know-how avrei tanto da discorrere anche in termini di ergonomia e usabilità di tutti questi strumenti perché non siamo assolutamente abituati a camminare per 10 ore al giorno con un paio di occhialini che ci mixano contenuti digitali ogni qualvolta c'è un marker definito da qualcuno ecco perché ci stiamo attrezzando anche per capire quali sono e studiamo ogni giorno tutte le problematiche annesse e connesse a questa tipologia di tecnologie perché ci sono quindi non vendo sonni ma analizziamo prodotti e soluzioni anche da un punto di vista di usabilità Google Glasses erano un primo esempio di integrazione tecnologica la Playstation con Sony che cosa ha deciso di fare con la realtà aumentata non solo ha fatto una console portatile che carica dei dati 3D e li processa in tempo reale con una velocità spaventosa ci dice anche siccome abbiamo equipaggiato questa console per videogame di una telecamera provate a giocare attraverso la realtà aumentata ecco perché insieme alla PS Vita in questo caso nella confezione troviamo dei marker vedete nell'immagine come se i marker vengono posizionati su una scrivania inquadrandoli diventano contenuti digitali con i quali interagire in termini di videogame e questa è una grossa evoluzione in termini di fruizione iphone con apple è la grande innovazione e come vedete questo fucile un po' da cartone animato che cosa integra un telefonino che vedete in quella cella in alto sul fucile e attraverso la realtà aumentata praticamente io vedrò non solo quello che vede il mio occhio attraverso la telecamera ma il software mi permetterà di sparare oggetti digitali fruiti in realtà aumentata non considero quanto questo sia pericoloso per un bambino e tutte quelle che sono le problematiche connesse alla tecnologia ma ci sono società e rami della ricerca che si occupano proprio di queste problematiche io ci tengo sempre a dirle perché spesso la domanda alla conclusione del mio intervento è ma tutte queste tecnologie non fanno male non fanno male però ci sono dei limiti dei punti che bisogna conoscere e come in tutte le cose non bisogna esagerare ecco questa è una battuta che mi permetto sempre addirittura nel cinema questo è l'ultimo sistema di ripresa virtuale della OptiTrack praticamente se oggi noi avevamo delle telecamere che ci permettevano di volare su degli ambienti o le stedicam attraverso un braccio meccanico di avere dei movimenti gravitazionali di ripresa oggi praticamente che facciamo ricostruiamo un ambiente 3D lo carichiamo nel dispositivo quindi in questa specie di telecamera che vedete nell'immagine e inquadriamo in tempo reale uno spazio virtuale è un concetto un po' difficile forse mi servirebbe un'altra ora per spiegarvi come funziona questo strumento anche perché è uscito da un anno solamente ed è ancora in fase di sperimentazione ma è stato già adottato dalle più grosse major cinematografiche la realtà aumentata sta avendo moltissimo successo perché si basa su diversi paradigmi cognitivi e sensitivi ma soprattutto anche se molto banale puntare un giornale e vedere un contenuto digitale in 3D è sempre un impatto visivo diverso da che vedere un'immagine stampata di questo se ne occuperà il mio collega nell'intervento dopo e vi spiegherà qual è l'integrazione della tecnologia nel mondo dell'editoria un caso studio giusto per farvi capire tecnicamente brevemente che cosa abbiamo realizzato nel museo dell'ambiente di Lecce un museo che appartiene all'università del Salento attualmente in semi abbandono per diversi problemi è un museo di storie e scienze naturali e attraverso un progetto che forse conoscerete e dei finanziamenti regionali che sono i Living Lab attraverso un progetto Living Lab siamo riusciti a soddisfare un'esigenza che il direttore di questo museo ci chiedeva fondamentalmente trattando fossili e dinosauri ci chiedeva come la tecnologia in qualche modo potesse creare un tipo di intrattenimento diverso aumentando anche il numero di visitatori spesso quando il primo sopralluogo in un museo o in uno spazio museale per noi è abbastanza traumatico perché ci troviamo davanti a musei che o hanno dei contenuti digitali molto vecchi oppure spesso ci troviamo dinnanzi a questi cimiteri di totem o monitor spenti o inutilizzati questo spesso è quello che succede perché succede questo perché bisogna essere intelligenti anche nel proporre un prodotto servizio che poi possa mantenere una vita possa essere aggiornato e possa essere aggiornato a costi quasi zero perché oggi il problema principale dei nostri musei è quello che non c'è denaro per mantenerli la realtà aumentata è una tecnologia che in qualche modo supera una serie di limiti in questo caso come vedete nell'immagine a sinistra ci hanno fatto vedere quest'angolo molto anonimo del museo accanto a quest'angolo dietro le immagini che vedete in beige c'è una ricostruzione fisica del tarbosauro che è della famiglia dei dinosauri T-rex e doveva abitare le zone della Puglia ma soprattutto transumava da Molfetta fino a Cursi giù nel capo quindi sono stati ritrovati diversi reperti che testimoniano proprio questa presenza che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di ricostruire questo tarbosauro in 3D vi assicuro che è un lavoro molto arduo ecco perché prima vi ho spiegato che cosa ci vuole per arrivare alla realtà aumentata e abbiamo deciso di confezionare questo corner come un corner interattivo siamo partiti da dati questo è quello che è il processo che si utilizza per la creazione di contenuti 3D da fruire attraverso applicazioni di realtà virtuale o realtà aumentata quindi vi faccio vedere un po' quello che c'è è il backstage di una produzione del genere quindi noi siamo partiti da dei dati standard quelli forniti dal museo su questo tarbosauro come vedete sono dei dati 2D che ci danno solo un'idea di quelle che sono le proiezioni ortogonali quindi le varie sezioni di questo animale e ci danno anche un valore proporzionale rispetto all'uomo abbiamo ricostruito prima uno scheletro del tarbosauro quindi li abbiamo ricostruito il sistema osseo forse l'unica cosa che c'era rimasta fisicamente che potevamo studiare e misurare abbiamo realizzato un esoscheletro virtuale fatto di snodi che permettevano il movimento articolatorio del tarbosauro e dopodiché gli abbiamo dato anche una pelle e quindi diciamo abbiamo curato anche tutto il dettaglio stilistico come vedete in questa immagine nella prima figura è simulato proprio una torsione in termini di movimento del modello 3D questo per dirvi e per giustificare anche quanto avanzata sia il tipo di modellazione animazione che andiamo a realizzare in questi ambiti sulla destra vedete più o meno un risultato finito di quello che è il contenuto digitale questi sono i primi esperimenti che abbiamo fatto in laboratorio quindi utilizzavamo una telecamera connessa a un computer pc sul quale era installata un'applicazione di realtà aumentata che ci ha permesso di caricare il contenuto digitale alla ripresa passatemi video quindi voi vedete il nostro collaboratore che è ripreso come una normale telecamera ma nel momento in cui la telecamera sta riprendendo il software carica il modello 3D del dinosauro e quindi si crea in uno schermo un mix di contenuti tra ripresa reale e contenuto digitale il risultato finito è che abbiamo fatto posizionare la gente in quello che era il corner che vi ho fatto vedere prima abbastanza anonimo e rudimentale e abbiamo costruito sovrapposto un set digitale che permetteva l'interazione degli utenti con il modello 3D digitale del tarbosauro scientificamente parlando e venendo da un mondo della ricerca questa è un'applicazione abbastanza banale ma è quello che vuol dire realizzare un set fisico in realtà aumentata tenete conto che queste che vedete sono dei fermi immagini delle riprese che abbiamo fatto durante la demo il software dopo aver fatto fare questa esperienza agli utenti del museo praticamente registrava la clip e gliela inviava via mail quindi rimane come un ricordo virtuale di questa esperienza digitale proposta lascio la parola al mio collega e concludo dicendo che oggi la realtà aumentata è una delle tecnologie più utilizzate soprattutto nel mondo dei multimedia e anche in in questo momento siamo nel pieno della rivoluzione digitale stiamo andando avanti con studi che consentiranno proprio di muoverci e utilizzare il nostro telefonino per puntare anche in una passeggiata in città dei contenuti digitali 3D di diversa natura semplificando tutte quelle che sono oggi le problematiche annesse e connesse a questa tecnologia vi ringrazio per l'attenzione grazie